Buongiorno Buongiorno Testo di Agostino Degas Voce di Rita Albanozzo E coloro che aiutano chi non ce la fa Per donar loro un giorno che migliorerà E un giorno nuovo e poi chissà Se il mondo cambierà E ballerà Come un passer la vita Danzar la torre Buongiorno a tutte le persone Che hanno sempre un sorriso da donare agli altri Ed una parola di incoraggiamento Per chi è in difficoltà Perché nonostante tutti i problemi che hanno Sanno sempre vedere le cose in modo positivo E sanno essere un regalo per le persone che incontrano Buongiorno alle persone che discutono sempre per capire Mai per avere ragione E ancora meno per giudicare gli altri Buongiorno alle persone che esprimono le loro emozioni Ed i loro sentimenti Lasciandosi guidare dal cuore Buongiorno A chi è consapevole che dire sempre sì agli altri Significa spesso no a se stessi Per questa ragione Saper dire di no Quando è necessario E' importante Quanto dire di sì Buongiorno A chi sta affrontando il dolore con coraggio Consapevole che la prima medicina E' la sua forza di volontà La capacità di non perdere mai la speranza E la dignità Ma è passando la vita che tu farai Che ogni grande proposito è un passo che puoi E un giorno nuovo anche per te Festeggiala con me Ma è passando la vita che tu imparerai Che ogni grande proposito è un passo che fai E' un giorno nuovo e prego che Ti ha tutto da ballare Con te